pigman no ma sei matto ci attacca a tutti ma c'è uno quelli nel chunk ti attacca si no 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 non vi ho micchiati non vi ho micchiati oddio no e mi sa che muori ok benvenuti ragazzi io sono ghesios e io sono alex e ciao io sono il solito schermo è lo schiavo perfetto e oggi continuiamo con la nostra fantastica shadow la nostra fantastica shadowcraft allora oggi abbiamo pensato un'idea fantastica innanzitutto faccio le armature per tutto non ho la minima idea di quanto possa fare aspetta ho 12 pezzi di legno tre chess plate ho fatto intanto e spiega cosa vorremmo fare e si mi ha detto innanzitutto faccio le armature mentre faccio le armature spiego racconta anche del mio distributore di cibo ok si allora squitter è stato bravissimo c'è proprio pro power dai fa vedere cosa abbiamo fatto e ha fatto un distributore di cibo spiattolo un attimo dovevo finire di fare cioè abbiamo messo il dispenser dentro il cibo ho messo eh si oh ragazzi mi sa che ci basta tutto il ferro per farlo ti vanti ho 13 log di legno ci basta cosa ci basta armatura completa per tutti cosa lo sto scherzando guarda la mia guarda il mio inventario oddio vabbè abbiamo i mega stack di ferro allora venite qua che vi do le cose aspetta che prendo da mangiare che comunque ho scoperto se notate che io non ho alcun livello ma non potete vederlo mentre gli altri danno 17 e perchè io sono morto miliardi di volte proprio suicidandomi dammelo pure l'hai già dato un po' no mancano i pantaloni vi do tutto io voi spartite di la roba si si no quante roba mi stai dando eh dammi gli scaricini e li hai fregato un po' squirti e li hai fregato un po' squirti e li hai fregato un po' squirti e li ho messo a metterle qui si dammi la metterle qui elmo ti manca l'elmo ti manca l'elmo ti manca l'elmo siamo full di ammo allora poi squirti ha fatto una cosa importantissima che è fighissima anche questo dispenser qua quando uno ha fame prime e gli esconde le cose abbiamo messo giure tipo con la torcia per è il mio ordine di questo messo e tu adesso la carne marcia per l'ultimo eh la torcia da letto ah si la torcia da letto io ho messo tutto in pietro a concia come volete vedere aspetta la farm che sta è una merda però le stavo dicendo fa un po' schifo questo posto infatti abbiamo pensato di andarcele andarcele proprio c'è proprio e come come attraverso un fantastico portale del nether so che moriremo però tentarlo in pace tentarlo in pace si aspetta ferro a caso qua in pace anche uno di ferro hai del ferro si si ho tre di ferro dove sei scusa ho tre di ferro dove sei? no ho passato il mio piccone scusami dai piccone si perché sei stato scavandogli a caso eh però Alex non fregarmi il ferro cosa? non ho il ferro gli hai fregato il ferro a squid no non c'ho niente davvero l'ho ripreso io ferro dove sei? sono giù tenga eh vabbè però si ma 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 sei in te? niente 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 tranquillo tranquillo non ho preso l'ossidiano però io l'ossidiano c'eri tu aspetta fallo sciallo ma ci serve l'accentino no no sta facendo squid c'è la squid no perché hai messo un blocco? ce l'hai già l'accentino? si si l'ho già fatto si si no mi sposto ok e c'è un blocco che mi impedisce di portarlo boom 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 andiamo? aspettate magari eh la torcia ma fotte sega di base dove siete? andiamo dentro ma scusa volevo aprire un attimo volevo rendere un attimo io provo a entrare se muoio ritornerò lasciate ogni siete minuti? eh sto arrivando ok e anche il nether fa proprio cagare eh vabbè adesso premiamo effe eh la main cam e faceva così non so perché ma mi riporta lì quel bug che ti dicevo aiuto basta fuga dall'inferno ma cosa? io non ci sono più abbiamo ruotato adesso squid devo scavare mille blocchi in una direzione aspetta guarda cosa sto facendo cosa stai facendo? un punto verso la morta stai facendo? oddio ce la lava sotto pazzo maniaco no da flero pazzo maniaco ma guarda cosa ha fatto no 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 io su questa scala scordati che io ci salga qua sopra cioè hai fatto una scala di merda davvero io ti ho seguito su quella della kaizu cover quindi si vabbè cioè era un migliore qua e guarda che merda che è sta cosa merda e vabbè e non continuiamo a non farmi spaurare si 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 continuiamo ma forse ma non mi fa aprire le ceste ma guarda comunque ma avete preso l'ossidiana per fare il portale? no allora abbiamo soltanto altri quattro pezzi contiamo su di te per prendere altri dieci pezzi di l'ossidiana visto che è un fantastico piccone in diamante vabbè ecco il quattro poi ci serve allora eh vabbè eh stiamo esplorandoci stiamo esplorando e vabbè quanto prenderò i diamanti quanti te lo dire dov'è che è l'ossidiana quindi? eh scendi giù la trova no quattro pezzi 10 ne devi prenderlo devi prenderlo almeno 10 big man no ma sei matto ci attaccano tutti ma c'è uno ma tutti quelli nella vicinanza ti attaccano quelli nel chunk no porca tronina stavolta scusa scusi cosa voleva dire lei? cosa voleva dire? quelli nel chunk ti attaccano quelli nel chunk ti attaccano proteggimi visto che ti ho dato una mano a farli fuori e lui continua a menare i pigme mi serve il cibo ma da dove cazzo non ha visto quello? ah se ce la lavo però ma dire cosa c'è? ce la lavo in quel blocco ce l'amava da dove cazzo stanno venendo? siamo sicuri che era il chunk no? perché sennò sono cambiate un po' le cose dalla 1.8.1 sai non vorrei dire ma forse ce l'hanno con te forse ce l'hanno con te tutte le sciglie dal nero ne ho 8 di solito sarebbe nell'area di qualche chunk adesso la questione è già cambiata in qualche siamo già passati da si tra un po' diventerà in tutto il nether si probabilmente qua c'è delle luminite io lo prendo si si ma l'ho già preso anch'io no ok qua non penso che lo picchierò guarda quanti ce ne sono giù un blaze un blaze si viene su vieni su vieni su se c'è un blaze davvero si c'è la fortezza io vedo quando ho potuto vedo già i due scheletri o no 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 . lei è una brutta persona abbiamo vicino la fortezza ci sono già i guider scheleton bene 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 quasi la famosa ma blaze lei muoia lei non mi vede sono invisibile blaze lei bravo lei e blaze mi pigman dai che lei è una persona io cercherò di tornare ma non so dove siete no no pigman di merda no oh ma ha droppato la spada d'oro il pigman ma te l'aveva già droppata la spada? si si la spada l'aveva già droppata almeno si si no l'aveva droppata te e già da un po' che ce l'hai no no ma l'ha droppata quello lì prima non ce l'avevo ho delle pepite ricordiamo che ah non possiamo usare l'acqua si si non abbiamo tre stringhe ma che hai visto se era minecraft modato almeno la lana la mettevo nel pulverizer mi dava la stringa si va bene non è minecraft modato mi spiace del tutto invece devo aspettare che vengano i ragni di merda per ammazzarli eh mi spiace del tutto eh io torno a casa io sto facendo una stalla per la fortezza io uso il mio pod mi sa che ci sono eh ma perché per ammazzare i blitz è più sicuro per i blitz è più sicuro se abbiamo l'arco eh lo so però ma gli estremi però abbiamo una stringa ma gli estremi non no 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 madonna oh mio dio c'è stato arrivato ma dove cazzo vengono questi mi sto spavendo il gas no no mandali su da soul sent sono normale dove siete eh non arrivano eh aspetta io devo ritornare a casa perché è sì sì ma vai da il gisius segui il cosmo il sentiero madonna il sentiero grigio il sentiero grigio oddio no si la coppista oddio no dai si perché ho passato i tuoi zombie nessuno ha droppato la carne io c'ho un cast che mi sta sparando come poche cose a mondo perché quando fuoco gli slai di fuoco no no guardami no no non vi ho micchiati non vi ho micchiati oddio ne ho eh mi sa che muori no sono io quello che ti prendetevela con me no scusate ma io vado a cercare di perché ha fatto sto ponte da pazzi maniaci poi dove si va l'ho fatto io il ponte e non lo so ah ci sono dei pezzi di coca ciao io vado via io vado via cast dove sei oh ciao scappa no ma loro eravamo vicini tu dicevi ma scappa tu che è meglio ma non sei morto mi hai registrato si sto registrando ho rischiato la morte bravo ma che vai andiamo sono appena arrivato cioè vai 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 voglio vedermi anche io un po' di spettacolo dai il mondo te lo mi fico eh si ma dobbiamo spostarci mille blocchi cioè sei un piccone in ferro buono spostiamoci eh dobbiamo spostarci mille blocchi Ale hai preso le coordinate del portale qualcuno prenda ste cacchio di coordinate del portale eh io sono nell'overworld quando poi mi trasporterò qua come sprecare un piccone di vedi qua comincia a spaccare tanto in quella direzione hai fatto tu sta roba? si inizia spacca col piccone di no con quello in ferro allora se non ti chiamavo mi chiamavo no guardami guarda è stronzo guarda ho un cuore un cuore vieni qua è colpa mia non dovevo picchiarli per il cibo no dove sei morto? ah questi barri questi barri no 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 ma che cos'è? perchè è scritto UHDT ehm sei un po' morto chiudi richiudi richiudi oddio sto tornando a me è morto il mio totale io ho preso un po' dove sei? dove c'è la luce? dove c'è la luce? si si vai di lì vai di lì è giusto dove c'è la luce ma non c'è la luce dove c'è Dio non voglio neanche sapere se ce l'hanno con me è lì è lì che poi adesso che ci ho pensato apri apri ciao apri penso di venire da qui no non posso usare la barca per cuocere mi dirò le robe aspetta ho 17 livelli eh aspetta no no lucevo ma che cazzo il cibo no non c'ho 8 livelli sennò dopo oh cibo due robe e vabbè mangiatelo così e copri vita mangia la carne marcia anche ma no ma è il cibo vero lui io ho un pollo cotto allora adesso dobbiamo uscire no no aspetta rompi la cosa che hai tieni no rompi la cosa che hai non vi la cosa davanti a te che dobbiamo rifare il tunnel allora adesso usciamo aspetta qui un attimo musical sound dove c'era qua e chiudi dietro eh ma l'avevo già scavato ma arriva nel vuoto eh si si chiudi sta arrivando squit sta arrivando eh ti abbiamo chiuso guarda arriva nel vuoto c'è tipo stroba dove c'è guarda dove arriva la fortezza ah bene possiamo oh possiamo andare subito nella fortezza dov'è che siete eh adesso allora con questo piccone lo prende la cosa la cosa cosa stavo cadendo nella lava sta arrivando un pigman incazzato con me perché ho picchiato il suo fratello dove sei dove sei dimmilo ah un altro pigman dove 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 è appena dopo il ponte di pietro ok 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 ah ecco ti vi vedo vi vedo vi vedo io non vedo te eh per forza tu stai venendo in un'altra direzione ah sono full vita e anche ok vieni vieni seguimi seguimi veloce veloce passa 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 sono andata nella fortezza raga ok ti raggiungiamo dirai che possiamo andare nella fortezza che qui ci siamo esci 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 perché c'è uno dietro è uno davanti cioè c'è uno davanti quello davanti dopo se tu scappi indietro sai quell'altro dietro se c'è uno dietro e ce n'è uno davanti no è che ho schiacato il tasto per la corsa il tasto per la corsa ha fatto così il cresito cioè vedrai che c'è uno col pendolo di fuori